Un lavoro che da tempo studiavamo in ufficio sport ma soprattutto nasce da un'esigenza della polizia locale, dell'ufficio viabilità di coordinare le manifestazioni sportive. Perché se pensate ad esempio a una gara podistica interviene in una città, coinvolge il traffico e quindi abbiamo messo in fila, in ordine, tutte le manifestazioni sportive che si ripetono in un anno e in un calendario che è gestito con le stagioni, inverno, primavera, in estate naturalmente gli eventi sportivi sono tanti, fino ad arrivare all'inverno, sono tutti quegli eventi che si ripetono sempre, quindi la città deve conoscere quando capitano, nelle settimane del mese, anche per non accavallare gli eventi e quindi è una bella panoramica che testimonia la vivacità dello sport fanese, questo lo posso testimoniare. La scelta della copertina è sicuramente l'evento tradizionale storico della città di Fano che testimonia un po' anche questa storia di associazioni che si sono inventate degli eventi unici, originali, è fanese d'oca, ha un nome anche molto particolare ed è anche un evento turistico perché lo sport è anche turismo. In questo bel calendario spiccano sicuramente la notata lunga ma penso anche alla Colle Marathon che testimoniano come lo sport può essere anche un volano per l'economia, questo lo sappiamo bene e questo è anche l'inizio per continuare un lavoro da svolgere.